Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova video di San Fran e Gostro e oggi siamo con i miei giochi in planata che non so come si gioca giocando oh ma perché te vai più veloce boh non lo so ma io devo andare lì scusa fai andare veloce donno ma non vale in quelli arancioni vai ancora più veloce e in quelli bianchi vai più su boh chiede tipo superman che figo sta cosa non c'è nel computer ma c'era anche sulla ps3 eh? quale cosa? no no a parte no sulla ps3 noi non c'eravamo ancora voi non esiste infatti si infatti brandone sei? ti devi fermare un attimo vatti da qualche parte ma non posso fermarmi? siiii non ci sto arrivando ma se io prendo l'acqua cosa succede? l'acqua? è morto ah si? si ma ti fermo ok che cazzo non ci succede? no ti devi fermare un attimo Brian ci stai servendo troppo sei vicino appunto fermati nooo sono morto ww perchè hai detto ww? veloce donno dai che sta per scadere il tempo nooo i luci i luci i luci dove sto andando dove devo andare? no marco aspetta vai addri porco aaaaaa a destra a lei nooo vabbè non ce l'ho fatto non ce la fai non ce l'ho fatto si 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 ce la fai ce la fai a sinistra nooo è tutto su passa in mezzo ai bufos no no marco 4 3 2 1 1 non è possibile c'è un'altra parte vero? ehm si ah se premi triangolo vedi dietro eh ah si ma non me lo dovevo dire cioè che schifoso l'abbigliato ha funzionato ahahah vai ora so come giocare si poi ci dica la ma io perchè questa mappa la conosco che l'altra non l'ho fatta solo una volta e dagli altri isolatori azione già un'altra volta vabbè ma tu sei più veloce no ma poi so anche dei punti segreti si ti ho superato oi kairo nooo io uso la scorciatoia no brutto schifo vado proprio volando io carlo crackle company ma dove sei? ma dove ribbio sei te ok sono scomparso ma io sto provando a passare dalle scorciatoie e da tutte le cose fighe oddio no questa parte non la so si si viva qualcosa si 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 Sì, ti ho fatto! Ciccione, quando hai fatto io, eh? L'ho proprio il gioco. Oh, anche. Interessamento! Super velocità! Brutto schifo! Mesta! Prendi qualcosa, tanto so che prendi qualcosa. No, ora non le prendo, non prendete niente. Eh, no, no, no. Infatti si vede, ma... Cioè, sono in fondo io! Eh, ma io sto provando a passare dalle scorte... Eh, sono morto. Ti recupero! Sì, 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 mi recupero. No, non ti recupero manco per idea. Sì, sono morto. Sì, bravo! Oh, Christian! Io non ti schifo, ti voglio! Eh, passa da qui! Ci sono passata anch'io! Non ti schifo! Io un plebeo! Sono un Power Ranger! Io sono un Power Ranger vero! Brutto schifo! Guardalo e scappo! Oddio! Ma fammi perché la scorciatoria la devi prenderti, schifo! Sì, sì! Ma dove ce n'avevi riuscire a prenderla? Quello è il problema! Che a me... No! Bravo! Fai così, continua! Poi cagli! Passi dalla scorciatoria? No, no, no! Non devi passare! Ok, ci sono passata! No, non ci passa! No, no, no! Non morire! Ok! E la via Flash! Se muoio ora è finita! Eh, va bene! E ci devi morire! Che schifoso! Gianna! Dai! Vai! Vai schifo! Prova Wolf 04 ha vinto! Ok! Ma sta mappa io l'ho fatta solo una volta! Ragazzi, siamo tornati! Ecco, lui l'ha fatto soltanto... Dove sei? Non ci sei! Io sono dentro il tuo corpo! Ah, ok! È vero! L'ho fatta soltanto una volta! Quindi dobbiamo vincerla! Perché noi la salpiamo al memoria! Anche se non ci abbiamo mai giocato! Certo! Perché... Tipo oggi l'ho comprato Minecraft per PS4! E non so... Oddio! Sì! Ok! Dove sto qui? Oddio! Io qui non so manco le scorciatoie! Oh, ma che cavolo! Ma che è stato? Devi fermare! Fermo! Intanto mi fermo tra un po', sai! Insomma... No! Non mi ha preso il caosormost! Io sto andando dove mi pu... Come direzione sbagliata! Anche a me è direzione sbagliata! Oh! Oh! Ciao Brian! Eh sì! Eh, fino a qui! Ma poi dopo? Dopo? Qui? Anche a me eravamo nella direzione sbagliata! Non so com'è! Oddio! Cos'è sto schifo! Ti ha sovrata! Ma il Cairo! Una... No! È quella la strada, infatti! Carlo Cracco! Oddio! Cos'è stata profississima? Caizer ce l'ha fatta te! No Brian è difficilissimo! Non ci riesco! Ora secondo me muoio! Ora me la bufò eh! Te vedi! Direzione sbagliata! Ma basta! Ma anche a me! Ma dove bisogna andare se hai sbagliato? Ma che ne so hai? Dai! No! 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 E dai ragazzi che ora si vigne! No! Dai dai! Non morire! No! Quello con le colonne! Dove bisogna andare? Qua le colonne! Non ne ho la minima idea di cosa sta facendo! Dov'è? Cosa? Devi passare in mezzo al legno! Ma te sei tutto stupido! Oh! Ok! Ho trovato la parte! Vai il carico! Te sei di tre checkpoint più avanti di me! Dove andavo? Ah di qua! Ok! Stai riprendendo il via! Boom! Dai! Che sono carico! Oh no! Non so più carico! Ah ma in basso c'hai i cuoricini! Ah! Si! I cuoricini! Ah te sei in quel punto? Come? Oh! Non mi abbandonare ora! Non mi abbandonare ora! Brutto schifo plebeo! Oh! Checkpoint! Alleluia! No! Te ben ti ti fermato! Te sei fermato! No! No! Te hai preso il checkpoint! Oh! Buona cenno! Oh brutto schifo! Se vincite! Se vincite e quante se le do! no 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 si per carlo e fa concludere ma che caos è ok ok qui ci siamo attenzione ma non va bene se c'è il point anch'io ma non c'è mai ce la fai ti immagino ora prendeva sbagliava eccoci di nuovo eccoci di nuovo qui da strisci alla notizia non sono già scordato la mappa io non c'è come già scurato vai cairo speriamo non sono a casa anche l'ho preso è brutto schifo il checkpoint ti sto rendendo donno black woman black woman no donna nera aiuto aspettami carlo cracco orzo vastuni oh mio dio ma che è qui ma perchè devo passare in mezzo agli alberi cos'è sto razzino no no, ora ce l'ho fatta ci sto per superare, fermo a tutti i ragazzi stai per vincere e guarda Brian dai non ho preso l'acqua, mi ha rallentato ce l'ho fatta, forse ti recupero ce l'ho fatta, forse ti recupero scappa ce l'ho fatta, forse ti recupero dove scappi dai io ti ammazzo via 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 nella miniera, nella miniera corri quanto sto viaggiando no vai Cairo, ti andavo a superare non ce l'ho fatta hai vinto te hai vinto te ora si spiace alla fine, sei bello sei bello ok eccoci di nuovo eccoci di nuovo a tutti i ragazzi con le hack parti è morto ma a tutti i ragazzi ti ha fatto uccidere a tutti i ragazzi grande Davide ti muoio bene ma ti sto al culo ti vedo e io no 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 ma noi ci stiamo incrociando salviamo no 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 sì devi fermarti me la rischio meglio non rischiarsela qui no 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 lo sai che rischiando sarà vinci 100 euro allora allora me la rischio ma io mi sollevato un cuoricino un cuoricino eh la cosa di tutti provaci no ho ripreso l'acqua non ti fa niente se prendi un cuoricino se perdi un altro altri due cuoricini no 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 brutto schifo e mi sto superando no broia no si dai un cuoricino ii 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 stavolta non mi fotte questa parte stavolta c'è la faccia siiii no brutto schifo odio mi ero schiantato alla fine oh io stavolta devo sempre sbagliare io stavolta devo sempre sbagliare oddio hai visto no no sta colta no brutto schifo ora ah io gli si passa più veloce eh te capi te capi va bene ragazzi il video finisce qui noi ci vediamo al prossimo episodio di mince aero craft e salutiamo brian che è il diversivo e io il gallo o anatra ciao a tutti ciao a tutti